Io sono Lia Dadi, professore ordinario all'Istituto Weizmann in Israele. Quello che io penso della ricerca in Italia è che ci sono dei centri di ricerca ottimi, ci sono dei cervelli ottimi di gente che fa ricerca, che però fa ricerca lottando contro un sistema che non solo non li favorisce, ma anche crea delle difficoltà del tutto inutili. Io credo che ci sia effettivamente un problema per le donne nella ricerca scientifica. Non credo che il problema sia necessariamente dovuto a un tipo di rapporto diverso che l'uomo ha nei riguardi di un uomo o di una donna nell'avanzamento della ricerca. Però il bias esiste, il bias esiste secondo me da quando le bambine sono piccolissime. Cioè non è una cosa che succede nel momento in cui si parla della promozione, è una cosa che succede dall'asilo, dalla scuola elementare, dalla scuola media, come influenza delle famiglie e di influenza di tutto l'ambiente, che forza la donna ad avere un certo concetto di se stessa. L'unico consiglio che io posso dare ai giovani ricercatori e ricercatrici è di seguire la propria passione.